Siete dalla tv locale? Sì. Cosa c'è qua? C'è un'inaugurazione di più privato. Questo? Qui è molto meglio gestito che l'Italia. No, le cose sono di buon senso. Copri fuoco alle 12, invece alle 10. Un restaurante è quasi normale. È un grosso rischio e sacrificio che cerchiamo di portare avanti con il giusto compromesso, perché comunque l'economia qui non troviamo soluzioni. No. Non hai fondi europei? No, perché noi non siamo ancora in un'unità europea. Non siete dall'origine europea? Pensavo che... ma parte del Fondo Monetario, no? È un paese come tutto. Il Fondo Monetario è internazionale, quindi quello è. No, ma siete parte del Schengen e tutto, no? Siete parte del Schengen, sì. Siete come Svizzera e Norvegia? Ok. Non avete la stessa cosa d'Europa? Il MF da noi non è utilizzato. Cosa? Il MF da noi non è utilizzato. Sì. I dati dicono se avverlo o non averlo, noi non abbiamo questo problema. No. Ah, no. Ah. Ah. Va bene. No, il MF da noi non è utilizzato. Ah, sì? Ok. 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 Quindi siamo in un Marino. E' quello? E' quello che è? Quella? Ecco... Questo è cos'è? Il Senato? Questo è il Comprato del Comprato Comunale. Questa è l'assemblea? Il Parlamento? Ma sono in funzione ora il Parlamento? E in funzione ancora? Anche in questi giorni? Sì, sono riuniti. E lì è il palazzo del... I parenti anni. I parenti anni. Ok. E dove siede il Presidente? No. Il vostro? Qui? Il Parlamento può anche siedere da... Ok. Ma le prossime riunioni quando sarebbero? Io se non faccio il giornalista da Stratestra. Ah, adesso anche domani, prima che chiudiamo l'anno. Domani? Questa che è ora? È solo che domani fanno un'altra sede. Altra sede? Sì. Non qui. Ok. Ok. Va bene. Ok. Grazie, grazie mille. Prego. Ok. Ok. Sì. No. È il congresso del San Marino. Il nostro rappresentante... Lui è il capo polizio. Sì. Sono in sessanta comunque. Sessanta è la... Il Parlamento? Ma è sei mesi a voto o no? No, no. Quello è solo il capitano reggente che sta sei mesi. Sono due comunque, non uno. Due capitano reggente. Esatto. Le capitano reggenti a sei mesi. La Svizzera è il Presidente del Sonno, no? No. Eh, però si risponde. Eh, se sposano a Gozzi diventi tu capitano reggente.